Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguri questa bellissima ragazza in foto si chiamava Giada Calanchini purtroppo ne parliamo al passato perché Giada ha perso la vita cadendo da un balcone dal terzo piano dell'abitazione del ex fidanzato un tremendo dramma si è consumato a Bosa in provincia di Oristano Giada era di origini romane aveva soltanto 22 anni un bellissimo fiore si è passito prima ancora di sbocciare riposa in pace Giada Calanchini amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi sulla pagina facebook Marco Liguri News seguitemi anche sul primo canale di Marco Liguri ciao a tutti ciao